Ora lancio di palla, vedi che tu lancio la palla all'altezza degli occhi, quindi molto bene, e dopo il lancio di palla però cosa succede? Guarda la mano sinistra, rimane bassa. Ciao, sono Marco Magro del sito giocaratennis.com e se il tuo servizio è impreciso, lento, spesso commetti doppio fallo, oggi voglio darti dei suggerimenti per renderlo un pochettino più sicuro ed efficace. Per farlo ho realizzato una video analisi ad un servizio di una appassionata tennista che mi ha inviato il video e che ringrazio per avermi dato la possibilità di condividerlo con te. Quindi nella prima parte vediamo un po' l'analisi del suo servizio, nella seconda parte vediamo gli esercizi che le suggerisco di fare per migliorare questo colpo e sono certo che ci saranno degli spunti utili anche a te. Ciao Cinzia, andiamo a vedere ora il tuo servizio prima a velocità normale e poi al rallentatore. Allora andiamo a vedere l'impatto prima cosa, l'impatto ce l'hai per bene sopra la testa, vedi che il braccio è disteso, quindi buono. Andiamo a capire, a vedere come arrivi all'impatto. Rivediamo un attimo a velocità normale. La prima cosa che mi salta all'occhio è una grande velocità nel lancio di palla. Vedi che è come se la scaraventassi in alto, quindi vai via veloce e poi velocemente sali con la testa della racchetta. Ecco, andiamo a vedere il lancio di palla. Tu parti da una posizione corretta, l'impugnatura sì, è una continente, comunque non ci sono grossi problemi. Ora, lancio di palla, vedi che tu lanci la palla all'altezza degli occhi, quindi molto bene. E dopo il lancio di palla, però, cosa succede? Guarda la mano sinistra, rimane bassa. Idealmente, dopo il lancio di palla, la mano sinistra deve stare per bene distesa in alto, fino a quando la palla si ferma. Questo ti aiuta a lanciarti la palla più dritta, un pochettino più alta e soprattutto ad avere più controllo del movimento. Quindi, prima cosa questa, la racchetta, vedi che si apre un po' a cameriere, significa, vedi che il palmo della mano lo apri in questo modo. Questo ti fa perdere un po' di velocità. L'ideale sarebbe far passare la testa della racchetta sopra la tua testa e quindi col palmo della mano non rivolto verso l'alto, come in questo caso, ma rivolto, lo segno in azzurro, rivolto un pochettino verso la tua testa, così da far cadere la racchetta e andare su. Per fare questo, quindi per riuscire a lanciarti la palla meglio e a lavorare sull'uso del polso, quindi col palmo della mano un pochettino rivolto verso di te, è fondamentale star fermi con i piedi. Qui ora fai un servizio al salto, non è sbagliato, però gli esercizi che adesso ti proporrò dovranno essere fatti con i piedi fermi, perché quando lavori con i piedi fermi ti puoi concentrare bene, vediamo un altro servizio, eccola qua, sul lancio e sul movimento della racchetta. Se fai queste cose saltando, diciamo che metti troppa carne al fuoco e rischi di incasinarti. Quindi le due cose sulle quali ti consiglio di lavorare e adesso ti faccio vedere gli esercizi, sono lancio di palla, un pochettino più preciso lavorando sulla mano sinistra che lancia e movimento della racchetta un po' meno aperto a cameriere, ma un pochettino più chiuso. In questo modo riuscirai ad avere un servizio più sicuro, quindi ridurre i doppi falli e anche un pochettino più fluido, dinamico e veloce. Ciao Cinzia, ho visto il tuo video sul servizio e ci sono un paio di cose che ti possono aiutare per renderlo più efficace e anche un pochettino più veloce. Il primo è sicuramente il lancio di palla, cioè lanciarsi la palla per bene sopra la testa tenendo la mano sinistra alta fino a quando la palla si ferma per avere un maggior controllo del lancio. La seconda cosa è il movimento della racchetta, che è un pochettino aperto qui con la mano e quindi ti fa cadere poco la racchetta dietro la schiena, quindi hai poca accelerazione e non riesci a dare neanche molta rotazione alla palla. Vediamo subito il primo esercizio. Innanzitutto ti consiglio di avere un cesto con una ventina di palle per evitare di andare su e giù dall'altra parte del campo. Prima cosa, lancio di palla con la mano destra, quindi tu mettiti in posizione per servire con i piedi, prendi la pallina con la mano destra e fai un lancio di palla, come se fosse il movimento del servizio normale. Tieni sempre i piedi fermi, quindi non spostarli indietro o avanti, così per avere una buona stabilità e un buon equilibrio. Quindi da questa posizione vai indietro, è importante piegare subito il gomito qui, in modo tale che la palla sia qui, diretta verso la tua testa, e poi da qui vai su, vedi che da questa posizione il gomito va avanti, la palla rimane dietro, poi da qui vai verso l'alto, è importante finire per bene verso l'alto. Quello che c'è da evitare è questo, il fatto di fermarsi così e poi lanciare da questa posizione, ok? E' importante che ci sia questo movimento, quindi con la palla verso la tua testa, con il gomito piegato, per utilizzare bene tutto quanto il braccio e anche l'articolazione del gomito, ok? Quindi da questa posizione vai dietro, fai cadere, vedi, la palla dietro la tua testa, il gomito va avanti, poi a questo punto lanci. Una volta che hai fatto un po' di prove, ovviamente devi prendere l'arcchetta in mano, facciamo il movimento a vuoto, quindi senza lancio di palla. Da questa posizione vai su, ok? Vedi che il gomito è piegato, le corde sono sopra la mia testa, e fai un movimento, lo classico sciogli spalla, il movimento a vuoto per scaldare la spalla, facendo attenzione a tenere e salire lentamente col gomito piegato, l'arcchetta meglio se la punta dell'arcchetta è rivolta verso avanti, se anche verso l'alto così va bene lo stesso. e le corde però devono essere rivolte verso avanti, quindi non così, ok? Se no andresti a fare il classico servizio a cameriere, cioè il palmo della mano non deve essere aperto verso l'alto, ma deve essere rivolto un pochettino verso il basso, insomma trova una via di mezzo, e perché le corde, ecco, siano messe così o anche così va bene, l'importante è che la mano non si apra troppo e quindi le corde vanno verso l'alto, e allora avresti veramente poca spinta. Quindi da qui, gomito piegato, questo movimento della racchetta, scendo, salgo e finisco. Qua, scendo, salgo e finisco. Se vedi che salgo in questo modo, un consiglio utile è quello di salire col gomito, quindi non con la mano, non devi salire con la mano, che allora la velocizzi e apri il palmo, ma sali col gomito tenendo la mano molto morbida e quindi la racchetta rimarrà bassa. Se invece tu vai veloce con la mano, tenderai a aprirti in questo modo, quindi vai su col gomito e poi da qui muovi la racchetta in questo modo, ok, dietro la schiena e poi vai su. Una volta fatto questo, beh, prendiamo la palla in mano per colpirla. Se questo video ti sta piacendo, ti invito a mettere un like e ad iscriverti al canale e se poi vuoi ricevere una video analisi di un tuo colpo, può essere il dritto, il rovescio, il servizio, clicca sul link qui in basso in descrizione. Una volta presa la racchetta in mano, prova a servire, partendo però da questa posizione, sempre con i piedi affiancati come per servire. Parti da questa posizione qui, quindi con il gomito piegato, vedi la racchetta sopra la testa, poi ti lanci la palla e fai un servizio. Quindi da questa posizione lanci, aspetti che la palla si fermi in alto. Quando inizi a scendere, allora muovi la racchetta facendola scendere dietro la schiena per poi andare all'impatto, sempre mantenendo l'equilibrio dei piedi, quindi senza avvicinare i piedi, senza saltare, senza spostarsi. In questo modo lavorerai bene sulla parte superiore del corpo, poi una volta che l'hai stabilizzata, allora spiega le gambe, inizia a saltare e aggiungi spinta. Però per adesso parti da questa posizione, lancia e vai a colpire. Una cosa importante da fare è sicuramente tenere il braccio sinistro in alto fino a quando la palla si ferma, perché tenere il braccio sinistro alto ti permette uno, di migliorare il controllo del lancio di palla e due, ti aiuta ad essere più stabile, perché se lanci la palla e poi la abbassi c'è il rischio di tirarla storta e poi sei messa così, perdi un po' di stabilità. Quindi quando tu servi per esasperare un po' questa sensazione stai su con la mano sinistra anche dopo aver colpito. In questo modo ti abituerai a tenere il braccio sinistro alto fino a quando la palla si ferma. Poi ovviamente abbassalo, ma quando lanci devi proprio vedere la palla e in mezzo la tua mano. Cioè prima devi vedere la tua mano, la pallina, ok? E nel momento in cui la palla scende, abbassi la mano sinistra e vai a colpire. Anche qui la cosa fondamentale è partire col gomito piegato, ok? Questo per migliorare poi la discesa della racchetta indietro la schiena per sentire meglio l'uso del gomito. Una volta che hai fatto questo, ovviamente c'è da fare il servizio completo. Per fare il servizio completo, assicurandosi che salga bene il gomito per poi andare a colpire, ci sono due possibilità. Siccome devi abituare il corpo a questo movimento, a questa differenza dove prima lanci la palla e poi muovi la racchetta, allora o parti qui giù con la racchetta, quindi racchetta a pentoloni, mano morbida, lanci la palla, sali col gomito e poi muovi la racchetta. Quindi da qui lancio, salgo col gomito e poi muovo la racchetta. Oppure se questo ti dà un po' di noia perché è difficile coordinare il tutto e quindi preferisci partire dalla posizione di partenza, non c'è nessun problema, parti dalla posizione di partenza, da qui, scendi, mano morbida, stacco la mano sinistra, lancio e poi vado a colpire. Quello che devi sentire però è la mano morbida e che vai su con il gomito, non che vai su con la mano così e che si apre, ma che vai su con il gomito e quindi usi tutta la spalla e tutto il braccio per poi fare il movimento. Ovviamente ci vuole un po' di pazienza, il consiglio è quello di andare sempre per gradi, cioè fai un bel po' di servizi da questa posizione, quindi da questa posizione qui, per sentire il movimento del gomito e del braccio da questa posizione. Poi fai un bel po' di servizi così, cercando di sentire il gomito che sale, perché nel tennis, o meglio, nel servizio del tennis, la cosa difficile è coordinare il lancio di palla con il movimento della racchetta e devi sentire il corpo. Se senti solamente la mano che fa questo, ovviamente il servizio lo fai con la mano, che magari di là ti va lo stesso, però non è così efficace. Se invece senti che lavora bene tutto il braccio, partendo col gomito alto, allora riuscirai ad avere molta più efficacia e molta più spinta. Ogni tanto, ecco, ti consiglio di filmarti, cioè di fare un breve video di come fai il servizio per controllare un po' come va. In questo modo riuscirai a vedere quanto ti avvicini all'obiettivo finale di arrivare in questa posizione qui, che è la posizione del massimo caricamento, per poi andare a colpire la palla. Una volta che poi mi hai fatto questo servizio, con i piedi fermi, ovviamente, allora aggiungi un po' di spinta, quindi lanci, pieghi un po' le gambe, provi a saltare e vedi un po' come va. Parla neanche con il tuo maestro. In questo modo andrai per gradi, cioè prima sistemerai la parte superiore e la coordinazione tra lancio di palla e movimento della racchetta, e poi andrai a lavorare sui piedi e quindi a spingere un po' di più. Ovviamente poi fammi sapere come andrà. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere un like, a lasciare un commento e ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. E se anche tu hai piacere di ricevere la video analisi del tuo servizio o del dritto o del rovescio, sul link qui sotto in descrizione oppure qui in alto a destra trovi tutte le informazioni.